bentornati su my football jersey oggi vediamo una maglia in versione fan la prima maglia quella di casa del barcellona per la stagione 22 23 che avevamo già visto nella versione player e trovate qui in altro la recensione la maglia di casa dei blaugrana 2022 2023 conferma un ritorno a valori più tradizionali con design a strisce tricolore con tonalità di più blu differenti accompagnate dal rosso il look elegante della divisa si arricchisce dell'oro per il logo di nike e altri dettagli la maglia casalinga del barca 2022 23 trae ispirazioni dalle divise del club a cavallo del nuovo millennio i colori sono ad esempio quelli della camisetta dei catalani indossata per la stagione 2001 2002 tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al cento per cento ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica un ulteriore passo di nike del club verso una produzione più sostenibile e attenta all'ambiente questa maglia è molto bella nella mia classifica prende 4 stelle sicuramente una delle maglie del barcellona più bella degli ultimi anni mi piace molto il motivo che hai fatto nelle diciamo che ha usato nelle strisce mi piacciono molti colori di questa squadra il costo lo vedete qui sopra molto basso per una maglia con questa qualità e con dei tempi di spedizione così veloci questa è arrivata in 21 giorni in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere sul sito perché troverete questa e altre bellissime maglie che vi attendono ora mi lascio la parte finale però prima di farlo mi raccomando metteteci un like e iscrivetevi al canale è l'unico modo che avete per avere altre recensioni e far crescere il canale per oggi è tutto ciao io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan